100 milioni di euro, riscossi per conto di centinaia di comuni da tributi tagli SPA, sembra siano stati distratti a favore di società riconducibili all'amministratore a Giuseppe Saggese. Dai conti sono stati tracciati prelievi giornalieri anche di 10.000 euro, autovetture di lusso, yacht e aerei privati, soggiorni in località lussuose e feste mondane. E ad aggiungersi a questo il fatto che oltre 1.000 dipendenti della Tributa Italia avrebbero perso il lavoro. La Guardia di Finanza di Genova ha arrestato 5 persone, tra cui l'amministratore delegato dei Tributi Italia, Giuseppe Saggese, per un danno accertato di quasi 100 milioni di euro a carico di 400 comuni italiani che avevano affidato alla società la riscossione delle proprie entrate. L'azienda, acquisite le somme provenienti dalla riscossione dei tributi, le tratteneva sui propri conti correnti. Tali fondi venivano poi distratti a beneficio dell'amministratore di fatto dell'impresa di riscossione attraverso operazioni con imprese collegate, documentate come consulenze, piani di organizzazione aziendale e operazioni societarie straordinarie. Le attività di indagine hanno verificato, in modo certo, l'appropriazione di fondi per circa 20 milioni di euro. E Tributi Italia, a fronte delle numerose denunce presentate dai comuni vittima delle appropriazioni, è entrata in stato di insolvenza venendo dichiarata fallita dal Tribunale di Roma. E di fronte a questo ennesimo scandalo a farne le spese sono stati dipendenti. Oltre mille persone sono state licenziate da Tributi Italia, altrettante sono in cassa integrazione. E alcuni comuni sono sull'orlo del dissesto finanziario.